Oggi, visitando la Valle dei Templi, lo sguardo del turista è ben attratto soprattutto dal Tempio della Concordia, l'unico rimasto in piedi per intero. Però l'esitatore si attarda a considerare i resti ammonticchiati del Tempio di Zeus Olimpico. Capisce subito di trovarsi di fronte a un'opera gigantesca, 110 metri per 55. Sono in genere le dimensioni di un campo di calcio, quando rappresentano invece il perimetro di un tempio, c'è di che far morire di invidia la stessa parte enorme. Una piantina della Sicilia, come era a quei tempi. Ci sono molte curiosità, ad esempio, Aetna si chiamava Aetna. Milazzo si chiamava Milae. Lipari, Lipara e via di questo passo. Tra parentesi, la città e la località moderna. Mettete sempre la luminosità al massimo. Agrigente era così ricca e accogliente da farsi definire da Pindaro la bellissima tra le città mortali. Pare che anche i cimiteri fossero uno spettacolo, a parte le cappelle gentilizze, istoriate con bassori lievi che illustravano le geste dei defunti. Venivano errati i monumenti funebri persino ai cavalli che avevano vinto alle Olimpiadi. Non manca neppure il mausoleo a un passerotto, unico compagno di giochi di una fanciulla aristocratica. Scinna, Vita e filosofia d'Empedocle, Giorgentino, Palermo, 1813, p. 52 Non credo che sia tanto azzardato a affermare che Agrigente, in quanto ad acqua, se la passasse meglio allora che ai nostri giorni. Sembra infatti che nel V secolo a.C. disponesse di un acquedotto cittadino e di una piscina coperta dove convogliare tutte le acque superfule. Oggi invece, come è noto, sono sempre più frequenti durante il periodo estivo, i turni e il razionamento. Anche nel commercio le grigentine erano alla vanguardia. Poco fuori le mura avevano costruito un gigantesco impagno. In pratica una fiera campionaria dove periodicamente si incontravano con i mercanti di tutto il Mediterraneo. Segno tangibile di questa leadership commerciale. Le bellissime monete di Argentina in oro e in argento con la scritta Acragas e i simboli della città. Il granchio, l'aquila e la quadriga. Secondo me, gli agrigentini vivevano voluttuosamente come se dovessero morire al giorno dopo. E costruivano le loro case come se dovessero vivere in eterno. Gli altri nella herza. Vita dei filosofi, ottavo 63. Una mappa di agrigento. Com'era quei tempi. Ci sono diverse necropoli. La rupe, Atenea. I vari templi. Tempio di Vulcano, Tempio di Era, di Ercole. Tempio della Concordia, Tempio di Era. Tempio di Giove e via di questo.